Ieri la rivista scientifica Nature, la più importante, accreditata rivista che stila, diciamo che dà il senso della ricerca scientifica nel mondo e che a fine anno stila la classifica, ci dice che questa signora, se la andiamo a vedere, eccola, eccola qui bella sorridente, è italiana, è Marika Branchesi, scienziata, precaria, mamma e che per la rivista Nature che adesso vedremo, eccola lì, guardate, si pone al secondo posto tra le 10 personalità più importanti del 2017, quindi questa è francamente una bella notizia, vedete al primo posto David Liu, origini cinesi, americane, che ha inventato un enzima, ha scoperto un enzima che corregge il DNA, mentre la nostra Marika Branchesi che lavora al centro di ricerca del Gran Sasso, praticamente si è specializzata, è un astronoma che ha studiato le onde gravitazionali e le connessioni fra le onde gravitazionali. Questa francamente è una gran bella notizia, lei sorride, sorridiamo anche noi e ha fatto molto bene Repubblica a dedicare questa copertina a questa scienziata che peraltro, vi dicevo, è anche precaria e questa è una chiave di lettura su cui io vi inviterei a soffermarvi, perché precaria ancora non è assunta definitivamente, pensate un po', uno dice i meriti vanno avanti, ma i meriti dovrebbero prescindere a questo punto l'insegnamento della Branchesi che ci dice che il merito prescinde il posto fisso, il merito è assoluto, perché la rivista National ha dedicato il secondo posto assoluto a livello mondiale e poi anche mamma e quindi pensate un po' questa donna, quante incombenze, quante cose nella sua identità, quante cose ci racconta e ci dà anche questa bella immagine di un'Italia che nuovamente è un'eccellenza.